e adesso stiamo in linea. Buongiorno gruppo, oggi una giornata, una domenica fantastica, parleremo colorista vincente Evoluscio insieme al mio amico Duilio Torre. Ciao Duilio, come stai? Ciao caro Francesco, bene, sto bene, tu stai bene? Buongiorno a tutti. Sì, ci siamo riposati oggi, ci abbiamo avuto due giorni dopo tutto questo lavoro in parruccheria, incredibile. Allora io vorrei raccontare un pochino Duilio, Duilio è un insegnante, come possiamo dire, diccelo te, di colorazione. Beh, io innanzitutto sono e sarò sempre un parrucchiere, a un certo punto, incuriosito, ho cominciato a studiare chimica. Mi sono conto di avere scoperto delle cose che non sono mai state narrate nel nostro lavoro, per cui mi sono dedicato da un po' di anni a questa parte, prima quando vivevo negli Stati Uniti e in Canada, a elaborare un corso per i parrucchieri là. Poi sono tornato in Italia e comunque adesso sto portando avanti un insegnamento che non è quello che ti dicono le aziende, ma è completamente diverso perché sono tutte situazioni un po' diverse. Sì, 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 c'è molto da raccontare, però il nostro pubblico che è stato tre mesi chiuso in casa, io adesso vorrei far vedere un paio di immagini insieme a te e discuterle per capire che cosa è successo e che danni ha realizzato questo gioco del corona. Eccolo qua, adesso questa è una cliente, giusto? Sono venute le nostre clienti e si sono presentate con queste crescite. Ma tu, come hai operato con questo caso, per esempio? Allora, ti spiego subito. Questa foto e questa cliente, ovviamente, non sono mie. Sono di Mario Cagliotti, è un grande parrucchieri dei Roma. Ieri sera hai fatto una diretta con lui, bellissimo. Esatto. Lui ha partecipato a Colorista Vincente per ben due volte e ha scoperto che in realtà si possono ottenere dei risultati meravigliosi, pur avendo una ricrescita veramente molto importante, però il bello è che senza utilizzare il decolorante. Wow! Spiegaci, spiegaci. Spiegaci qualche cosa. Questo è uno dei programmi di Colorista Vincente Evolution, perché fino a prima, a pre-corona, c'era Colorista Vincente. Poi ho dovuto, ho pensato che era sicuramente meglio fare il base e l'evoluzione insieme, in modo da non portare le persone a fare gli step. E quindi questo è uno dei programmi che c'è in Colorista Vincente che si chiama Decromium. Cosa vuol dire Decromium? È una specie di annullamento dei pigmenti in realtà che succede in maniera molto naturale con i raggi ultravioletti. Noi lo facciamo chimicamente, ma senza ricorrere all'uso del decolorante. Per cui hai un rispetto incredibile della texture del capello e soprattutto riesci ad arrivare a quei livelli lì, che mi permetto di dire che è un 10 pieno, senza ricorrere ai tonalizzanti, con tutto rispetto, eh? Con tutto rispetto per chi segue personaggi come Guitang e Munir, che sono effettivamente molto bravi, ma loro questi effetti qua li ottengono, non come quel bianco, eh? Nella maniera più assoluta, ottengono il grigio, proprio perché fanno l'effetto ducotone dopo aver portato il capello a essere un giallo-arancio e lo coprono. Proprio questa è una delle poche cose giuste che si possono dire quando si dice copro, perché in realtà il capello bianco non lo si copre, ma lo si satura. E questo è il colore che ottieni così, quindi quando la persona si lava i capelli, o va sotto il sole, rimane così, perché è già quella la tonalità, non ha bisogno di essere tonalizzato. E questo è un grande, tanto. Ma guarda, io credo che questo è scritto anche nel libro che sta per uscire. Parleci del tuo libro, che è molto importante, che è molto professionale. Beh, questo fa parte del grande progetto. Sai perché quando uno rispiega la tricologia con gli occhi della scienza è un'altra cosa. Innanzitutto sai, noi siamo ancora schiavi noi parrucchieri di una diceria che, per esempio, mio papà che ovviamente era del 26, aveva sentito dire, lui, come tutti quanti noi, che l'ammonia capre lo squamo del capello, che le melanine sono blu, rosse e gialle, e che non è vero assolutamente nulla. Nulla, assolutamente nulla. Quindi c'era bisogno di fare un corso che almeno durasse 15 giorni per poter essere concepito. E allora che cosa ho fatto? Ho scritto un libro dove non si parla di colore, ma si parla di tricologia in maniera forte, dove si vede la melanina, perché figurati te che i parrucchieri non l'hanno mai vista la melanina. Nessuna azienda gliel'ha mai fatta vedere. E fai capire che la melanina sono di due tipi e non ce ne può stare una mentre ce ne sta un'altra, perché la genetica è seria, non è come le aziende. e la vedi, vedi l'eomenanina, vedi la feomenanina e basta perché non ce ne sono altre. E quindi prepara questo libro, dopo aver spiegato la tricologia, che cos'è la cosmesi per i parrucchieri, quindi come, diciamo così, trattare le anomalie estetiche e anche quelle pesanti, come la psoriasi, perché nel mio libro do un po' di mazzate dai prodotti farmaceutici, che sono delle formule di per sé valide, purtroppo sono dei farmaci e quindi interferiscono con il nostro sistema endocrine, eccetera, eccetera. E lì tratto una serie di casistiche, ma anche la doppia punta, come creare una buona maschera, come fare un buon ricostruttore, che cosa c'è dentro una lacca, come funziona uno shampoo, c'è tutto. Per cui prima di arrivare al corso di Colorista Vincente Evolution, le persone riceveranno questo libro, che sono un po' di pagine, però sono anche pagine fluenti da capire, cioè non sono difficili. Quando arriveranno al corso di Colorista Vincente Evolution, saranno preparate, per cui potremo addentrarci dentro il mondo del colore senza avere le verità da abbattere. Quindi è una cosa bellissima. Una delle parole che mi è rimasta impressa nella diretta che hai fatto ieri sera, uno dei tuoi allievi, che era entusiasta di te, tu hai il potere di spiegare le cose in un modo differente. Noi parrucchieri, ora, le aziende sono giuste per il periodo che sono state, che loro vendono il loro prodotto e creano la formazione per il loro prodotto, giusto? Sì, anche sbagliato, però sì, è così. Va bene. Il tuo metodo, il tuo metodo è che il parrucchiere ha la grande opportunità di scegliere l'azienda che vuole. Certo, non deve cambiarla. L'azienda che vuole e la tipologia per ogni tipo di... Per esempio, per la foto che abbiamo visto e faccio rivedere, eccola qua, tanti parrucchieri gli viene il panico per realizzare questa crescita enorme. Certo. Poi io spero di invitare l'artefice di questo lavoro perché è un campione, ma se è un campione già del suo, ma sicuramente con i tuoi consigli e tecnica, credo che ha avuto non difficoltà a creare quel tipo di lavoro, quel bel biondo fantastico. viva in crisi, perché devi fare due decolorazioni, se bastano. Eh sì, sì. E poi le punte, che fine fanno? Per cui... È quello il problema. Invece vai a fare una schieritura e il capello poi alla fine, chiaramente, patisce molto meno. Certo, certo. Senti, oggi è stata una piccola presentazione. So che tu devi partire questo periodo tutti di corsa, dato che ci hanno liberato, possiamo spostarci un po' di più. So che devi andare dove devi andare di bello. A Bologna, Imola e Ravenna. Ma noi ti aspettiamo qui a Roma con trepidazione. Adesso cercheremo poi di attualizzare pian piano questo corso che stai organizzando a Roma, anche per presentare il tuo libro. Certo. Dacci qualche effetto speciale. Sì, velocemente, perché non voglio tagliare il tuo pubblico e neanche te. Ma il libro sarà pronto, ritengo, in meno di un mese, quindi verrà stampato e verrà proposto. Sicuramente è in pole position Amazon, perché come tu sai Amazon è quello che spinge un po' tutto. Mentre il libro sarà il 12 e il 13 di luglio a Roma. Difatti tra un po' la mia pagina, in Duilio Torre, ci saranno tutte le pubblicità e tu sarai la prima persona che lo saprà. Grazie. Allora, facciamo un annuncio a i parrucchieri iscritti nel concept group live che Duilio Torres realizzerà questo corso il 12 e il 13 luglio a Roma e adesso nei prossimi giorni posteremo più dettagli di questo evento e poi speriamo anche di fare una piccola diretta introduttiva del corso prima o dopo il corso che svolgerai qui a Roma. Ci stiamo organizzando anche con gli inviati speciali, però mi parlerebbe molto piacere essere io il tuo inviato speciale e raccontare questo corso professionale colorista vincente Evolution. Assolutamente. Allora, ne ricordo a tutto il gruppo, nella descrizione ci sarà anche il link del profilo di Duilio per chi lo potesse contattare, lo può contattare direttamente anche nel suo profilo. Bene. Bene. Cosa vogliamo raccontare di più? Oggi domenica guardiamo a prendere un bel gelato virtuale nel senso che dopo questa maratona anche io questa mattina ho avuto un sacco di consultazioni che stiamo preparando tante altre interviste di moda, di evoluzione e di creatività. Benissimo. Allora, ricordo, andiamo nelle piattaforme YouTube, in Facebook, in Instagram e da questa mattina ci potete anche trovare in Telegram che è Live Concept Group dove tutti i video vengono postati dentro Telegram dato che se dobbiamo comunicare cerchiamo di comunicare in tutte le piattaforme a 360 gradi per quelli che non gli piace Facebook ci può essere Telegram perché tante persone non gli piace allora però l'informazione deve girare. Sotto la descrizione avrete tutti quanti gli indirizzi. Bene, ti ringrazio della diretta e avremo occasione di invitare qualche altro collega colorista o qualche persona dopo il corso le sue impressioni che farebbe molto piacere a me e anche a alla categoria dei parrucchieri perché questo è un momento che ci dobbiamo dare da fare, giusto? Assolutamente sì. Francesco, io voglio solo a dire una cosa che sono molto onorato che tu mi abbia invitato nella tua trasmissione anche perché se io ricordo bene tu sei stata la prima persona a portarmi la novità dell'Estation a Tenerife e per cui si è stata la prima persona a portarmi la novità dell'Estation a Tenerife e per cui si è stata la prima persona a portarmi la novità dell'Estation a Tenerife. Abbiamo lavorato insieme, addirittura io mi sono direttato a guardarti quando tagliavi i capelli, sei un fenomeno e quindi tu hai visto lavorare a me e questa è una questione che è un'amicizia che è nata dalla stima reciproca. Esatto, esatto. Non ci conosciamo così, per modo di dire. Il mio motto è stato sempre l'eccellenza. Già nei corsi di formazione dell'Estation e ancora tuttora io cerco giovani in eccellenza che creano extension per diventare leader nel loro territorio. Anche perché poi avremo qualche intervista di persone che hanno fatto il corso con me 30 anni fa quando tornai da Tenerife e feci il giro dei parrucchieri. Ancora c'erano i miei attestati e ringraziamento di modo di fare. Poi l'evoluzione da un'estensione, da un tipo, noi ce ne abbiamo 32, è diventato ancora più complicato, però è semplice. Possiamo dare a 360 gradi un servizio utile alle persone che necessitano di questo. Assolutamente sì. Va bene. Grazie. Allora, vi ricordo, via Massacciuccoli 23, quartiere Trieste, concept 23. Noi andiamo in diretta tutti i giorni dal negozio. Abbiamo una bellissima recepzione che è diventata quasi una radio tv. Io mi ricordo negli anni 80 in quel quartiere dove io già avevo avuto dei negozi c'era la radio di quartiere e la tv di quartiere per dare un servizio e noi stiamo cercando di dare un servizio. Poi ci saranno un sacco di novità, ma non me le racconto tutte quante, piano piano, ci saranno già dei premi con le nuove magliette del Concept Group Life, magliettina esclusiva dalla società Attento, che offriremo a qualche utente del gruppo attivo per cominciare a relazionarci insieme. Bene, grazie, grazie Duilio Torre. Grazie a te. Ci sentiamo alle prossime. Ciao. Assolutamente. Buon dia a tutti. Ciao. Ciao.